Nuovo appuntamento di mio medico in compagnia del dottor Nicola Falco e oggi parliamo di igiene orale, quella che facciamo a casa ogni giorno. Dottore Falco, intanto quante volte è utile spazzolare i denti? Durante l'arco della giornata due volte sono sufficienti, la mattina e la sera, con particolare attenzione alla sera ovviamente, che è il periodo in cui andiamo incontro a otto ore in cui il flusso dormendo, il flusso salivare si abbassa e quindi diminuisce la difesa e l'effetto tampone appunto della nostra saliva. Quindi se proprio dobbiamo scegliere un momento e non riusciamo neanche a farlo due volte al giorno, la sera è fondamentale. Poi se si vuole anche spazzolare una terza volta ben venga. È meglio uno spazzolino manuale o quello elettrico che ormai si trova dappertutto? Sono entrambi degli ottimi metodi di spazzolamento, se ben fatti, cosa importante. Diciamo che però il metodo di spazzolamento manuale è un metodo più complesso e quindi molto spesso consiglio lo spazzolino elettrico perché vedo che i pazienti riescono a pulire meglio facendo meno fatica. Però non dobbiamo confondere col tempo di spazzolamento che deve essere sempre intorno ai due minuti perché anche lo spazzolino elettrico ha bisogno di due minuti per pulire bene i denti. Quando ci richiamo al supermercato o in farmacia o da qualsiasi altro posto ci troviamo davanti una grande varietà di dentifrici. Ma quali sono le caratteristiche di un buon dentifricio? Allora un buon dentifricio cosa fondamentale che deve avere è una sostanza che permette di rimineralizzare i denti dopo lo spazzolamento. Quindi fluoro o idrossiapatite. Per quanto riguarda il fluoro diciamo che ad oggi abbiamo due tipi di dentifrici contenenti di fluoro. Ci sono quelli con il fluoruro d'ammonio e quelli con il fluoruro di sodio. Il fluoruro d'ammonio per me è migliore in quanto nell'arco delle 24 ore riesce a stare più adeso al dente e quindi dare una maggiore mineralizzazione al dente e una protezione maggiore nei confronti della carie. Spazzolino e dentifricio ma cosa altro occorre per completare l'igiene orale? L'ultima cosa che occorre è il filo interdentale. Bisogna utilizzarlo una volta al giorno, sempre la sera, anche perché si ha un po' più di tempo, non si va di corsa come al mattino. Serve a togliere tutti i batteri che si accumulano negli spazi interdentali e anche a livello gengivale, nelle zone in cui lo spazzolino non riesce ad arrivare. Diciamo che è un presidio molto molto importante. Spesso però il filo interdentale è una cosa veramente difficile, complicato, considerato quasi una tortura. Che cosa ci può essere di alternativo? Innanzitutto bisogna un po' conoscere bene la tecnica e quello lo rende già un po' più semplice. Però in alternativa, ma non è neanche tanto semplice da utilizzare, si possono utilizzare gli scovolini. Dico sempre ai miei pazienti per dargli un po' l'idea di cosa sono. Sono dei piccoli pulisci bottiglia. Sono di diverse dimensioni. A seconda dello spazio interdentale del paziente si sceglie una misura e serve sempre a pulire questa zona, soprattutto la gengiva che in quella zona è ricca di batteri e si accumula molto molto facilmente.